La Sandro Abate sbanca Genova e porta a tre le vittorie consecutive. Alla vigilia del match Liguria si pensava ad un confronto, da l'reso quasi scontato, anche considerando che i padroni di casa sono ultimi in classifica. Ma il parquet genovese ha restituito invece un incredibile equilibrio spezzato a favore degli avvelinesi soltanto a 46 secondi dalla sirena finale, grazie ad una rete di cacà. Il pivò brasiliano segna un gran gol all'incrocio dei pali dopo aver ricevuto un passaggio da Bagatini, autore del primo gol della Sandro Abate. I tre successi consecutivi permettono alla truppa erpina di salire a quota 33 punti in classifica. I risultati favorevoli dell'ultimo turno hanno consentito di superare non solo Matera sconfitto da Mantua, ma anche Padova frenato tra le Muramiche da Pesaro. Non c'è tempo per godersi la vittoria per la formazione di Batista. Domani sera si torna nuovamente in campo. Al pala del Mauro di Avelino andrà a discendere il recupero contro la Feldieboli, formazione che nell'ultimo turno ha ottenuto un pari a dir poco pirotecnico contro la Kamedo Son 5-5. Il tecnico carioca potrà contare sul rientro di Nicoloti che ha scontato il turno di squalifica. In ottica a rotazioni dovrebbe rimanere fuori crema, le riserve saranno sciolte soltanto nell'assitudine di rifinitura della vigilia per la truppa erpina. Grazie.